L'obiettivo è quello di far emergere le aziende che hanno scelto di produrre oli di oliva di categorie extravergine biologici e il cui prodotto si distingue per l'elevata qualità sensoriale, contribuendo a stimolare l'impegno al continuo miglioramento qualitativo dei prodotti e a migliorarne le capacità di penetrazione del mercato. È il premio Extra Bio l'appuntamento che vede la sua prima edizione nell'anno 2006 e che si è rinnovato grazie alla sinergia tra la Regione Campania con la Federazione Regionale Coldiretti Campania, nella Camera di Commercio di Napoli, SI Imprese e l'Associazione Analisti Sensoriali Associati. Anche quest'anno la risposta è stata sorprendente da parte del comparto biologico regionale. Tra le domande pervenute dalle aziende ne sono state selezionate 46 con 54 oli ammessi al concorso. Dei 50 milioni stanziati dalla Camera di Commercio in favore delle imprese, 3 milioni e mezzo vanno all'agricoltura a dimostrazione dell'attenzione costante che riserviamo a questo settore, ha affermato il Presidente Fiola. Il premio Extra Bio si distingue fra i tanti riconoscimenti per la valorizzazione delle eccellenze e della qualità. Queste le parole di Fabrizio Luongo, Vice Presidente Vicario del Palazzo della Borsa, la guida dell'azienda speciale unica SI Imprese. Un premio che si riconferma nell'eccellenza del nostro territorio, del nostro miglior tessuto imprenditoriale, che si conferma nel tempo, perché le cose che hanno una conferma vuol dire che sono apprezzate, è un ruolo diverso del sistema camerale. I premi non soltanto per riconoscere alle imprese di proseguire in questo momento di difficoltà, dopo la pandemia, le questioni economiche, ma soprattutto sulla qualità. In questo caso la Camera di Commercio e l'azienda speciale unica SI Imprese hanno un'eccellenza, che è il Laboratorio Chimico-Merciologico e il Panel. Su questo ci siamo impegnati, abbiamo verificato le proprietà organolettiche ed ecco che la premiazione di oggi punta sull'eccellenza.